Il comune di Civitella-Casanova, oltre al danno alla beffa, si può dire l'esclusione dal catere sismico? Sì, una forte delusione perché a una comunità che ha già subito il sisma 2009, quindi gravemente danneggiatasi, aggiungono ulteriori danni di questo sisma 2016-2017, con numeri che per noi sono molto importanti, circa 220 richieste di inagibilità, oltre 60 immobili inagibili dalle schede FAST, e praticamente 51 persone fuori casa, oltre a quelli che abbiamo dal 2009. Non c'è stato lo stesso criterio di far rientrare i paesi nel catere sismico come quando c'è stato quello dell'Aquila 2009? Allora, Aquila 2009 c'era un criterio scientifico che era dato dall'accelerazione sismica rilevata sul territorio e i danni indotti da questa accelerazione sismica. Adesso noi siamo curiosi di sapere quali sono i criteri che hanno determinato l'ingresso o l'esclusione dei comuni in questo catere. Sinceramente è una domanda che ci poniamo, ma ancora nessuno ci riesce a dare risposta. Noi abbiamo, diciamo così, attivato tutti, informato tutti i nostri parlamentari, rappresentanti regionali, però pare che questa risposta tardi ad arrivare. Per noi è una delusione forte perché è una comunità che sta morendo non solo per la perdita del patrimonio immobiliare, infrastrutturale, ma soprattutto per la perdita delle attività economiche e anche a livello sociale. Oltre la metà del paese è inagibile, è chiusa e questo contribuisce alla morte certa di paesi come il nostro. Siamo anche sconcertati da certe dichiarazioni fatte anche dal presidente della regione Abruzzo che ha dichiarato che i confini delle cratere non arriveranno fino a Zagabria. Io penso che nel momento in cui una comunità che è d'aiuto ai tavoli istituzionali superiori, quindi alla regione, allo Stato, la politica si deve attivare per fare tutto il possibile per salvaguardare gli interessi della comunità e se è necessario i confini delle cratere dovrebbero andare anche oltre Zagabria.